quello di iniziare a capire come funziona l'incapsulamento, qual è il supporto sintattico che il linguaggio ci può dare e cos'è il concetto di scope, quindi di contesto in cui possono operare, in cui è possibile vedere e avere la visione degli elementi. Allora, innanzitutto quando parliamo di incapsulamento parliamo sostanzialmente di visibilità, per cui in Java, nel linguaggio Java, sono definiti due particolari modificatori di visibilità che possono essere applicati ai membri di una classe. I membri della classe, vi ricordo, sono i costruttori, gli attributi e i metodi. I due modificatori sono private e public, che permettono di rendere, per l'appunto, privato e quindi visibile soltanto agli oggetti della stessa classe, o pubblico, quindi visibile a tutti, uno dei membri della classe. Attenzione, vi ricordo che, a differenza di quanto uno potrebbe aspettarsi pensando al concetto di incapsulamento, l'incapsulamento in Java, ma questo funziona in tutti i linguaggi di programmazione nello stesso modo, si applica sostanzialmente a livello di classe, quindi due oggetti della stessa classe possono vedere gli attributi l'uno dell'altro. Come funziona? Se prendiamo l'esempio class che avevamo iniziato a vedere precedentemente, nella classe car, se noi mettiamo public l'attributo color, chiunque, dal programma main o da un'altra classe, può accedere all'attributo color semplicemente avendo a disposizione un riferimento di tipo car. Se invece andiamo a definire l'attributo color come privato, non è possibile accedere direttamente all'attributo tramite un riferimento. È necessario passare attraverso un metodo, ad esempio il metodo paint, che avevamo già definito nella classe di partenza, quindi io per poter andare a definire il colore di un'auto devo utilizzare il metodo paint e non posso accedere direttamente tramite il riferimento all'attributo. Quindi in generale tutto ciò che è privato in una classe non è accessibile dall'esterno, tutto ciò che è pubblico invece è tranquillamente accessibile. Per cui, per riepilogare, noi abbiamo membri privati e pubblici. I membri privati sono accessibili soltanto da metodi che stanno nella stessa classe e non da altri metodi. I membri pubblici sono accessibili invece da chiunque, sia metodi che stanno nella stessa classe, che metodi che stanno in un'altra classe. A questo punto è chiaro che questa distinzione tra privato e pubblico serve per andare a rendere operativa e quindi dare un supporto all'interno del linguaggio a quello che sono i principi di incapsulamento. Per questo motivo, normalmente, nel linguaggio di programmazione ad oggetti, quello che si fa è di andare a definire dei metodi che si sono getter e setter, che hanno per l'appunto il compito di leggere, get, e scrivere, set, i valori degli attributi, che normalmente devono essere privati. Quindi, per rispettare l'incapsulamento, noi tendenzialmente mettiamo tutti gli attributi come privati, quindi visibili soltanto all'interno della stessa classe. Per cui, ad esempio, per l'attributo color che abbiamo visto prima, è possibile mettere un metodo getColor, metodo setter, che restituisce il valore di color, e un metodo setColor che accetta un valore e definisce un nuovo valore per color. Adesso proviamo a ragionare in termini di un esempio molto semplice. Quindi immaginiamo due classi, studente ed esame, dove la classe studente ha tre attributi, immaginiamo di iniziare a definirli pubblici, quindi senza alcun supporto di getter e setter. Quindi abbiamo nome, cognome e matricola, e un costruttore che probabilmente le inizializza. Per quanto riguarda invece la classe esame, abbiamo un attributo che è il voto e poi un altro attributo che è un riferimento a uno studente, quindi è lo studente a cui è stato dato quel voto per l'esame. Volendo rappresentare questa struttura tramite un diagramma delle classi, abbiamo la classe esame e la classe studente. Uno studente può potenzialmente avere tanti esami, un esame sostanzialmente è legato tramite quell'attributo studente, che qui andiamo a rappresentare tramite un'associazione, a un solo studente. Per cui se noi dobbiamo andare a definire il voto per uno studente, dobbiamo andare a definire lo studente, in questo caso Alice Green, che ha matricola 1.234, un nuovo esame che ha come voto 30 e poi andiamo ad assegnare l'esame allo studente. Quindi sostanzialmente andiamo a impostare l'attributo student dell'esame uguale a s, quindi ricordatevi che qui stiamo copiando il valore del riferimento. Non è una copia dell'oggetto, ma è una copia del riferimento, quindi sostanzialmente l'attributo student all'interno dell'oggetto e punterà all'oggetto, lo stesso oggetto a cui punta la variabile locale s di questo name. A questo punto per andare a stampare il voto andrò a stampare il voto e il cognome dello studente o della studenta. Per capire come funziona lo scambio di messaggi, invocazioni di metodi in questo caso, usiamo un diagramma che si chiama diagramma di sequenza, che è uno dei tanti diagrammi che sono messi a disposizione dalla notazione UML. Sostanzialmente abbiamo queste linee verticali che rappresentano la vita degli oggetti e gli oggetti sono rappresentati da questi rettangoli che troviamo in cima. Per cui abbiamo main, che in realtà non è un vero e proprio oggetto, è l'intente, il cliente degli altri oggetti, l'oggetto esame e l'oggetto Alice. Che cosa fa il main? Innanzitutto crea Alice, poi crea un esame, dopodiché scrive l'attributo student dell'esame e poi per stampare le informazioni legge l'attributo grade e poi legge il cognome di Alice. Come vedete, main in questo caso deve necessariamente andare a accedere agli elementi interni di questi due oggetti e deve conoscere la struttura. Una soluzione alternativa è quella di utilizzare dei metodi getter e setter che permettono di sostanzialmente andare a nascondere questi dettagli. Per cui abbiamo una situazione analoga a quella precedente in cui per fare la stessa operazione, quindi stampare il voto dato alla studentessa Alice, noi creiamo i due oggetti esattamente come prima, dopodiché utilizziamo un metodo setter per andare a settare lo studente dell'esame e dopodiché andiamo a chiamare un metodo che si chiama print. Quindi invece di andare ad accedere agli attributi, noi utilizziamo un metodo che si occupa di gestire gli aspetti interni dell'oggetto che si chiama esame in questo caso. In particolare, se vogliamo andare a presentare la nuova struttura dati, usando un diagramma delle classi UML, quello che otteniamo è, oltre agli attributi che avevamo prima, il metodo setstudent dell'esame che permette di andare a impostare uno studente, un metodo print e un metodo toString che vediamo adesso come può essere utilizzato. Quindi torniamo a un diagramma di sequenza esattamente analogo a quella precedente, le prime due operazioni che vengono fatte sono quelle di andare a creare lo studente Alice e l'esame relativo, dopo di che viene chiamato il metodo setstudent, qui c'è un int ma in realtà dovrebbe essere un oggetto di tipo studente, e poi viene chiamato il metodo print. Il metodo print sostanzialmente che cosa fa? Stamperà il voto dell'esame e poi invece di andare ad accedere al nome o cognome di Alice, chiamerà il metodo toString dell'oggetto Alice. Quindi sostanzialmente che cosa succede? Succede che invece di andare ad accedere agli elementi interni, che a questo punto sono privati, utilizziamo dei metodi, un metodo setter qui, il metodo print e il metodo toString, che permettono di sostanzialmente estrarre le informazioni senza accedere direttamente agli attributi. a questo punto come andiamo a scrivere la classe esame? La classe esame sarà fatta in questo modo, il voto e lo studente sono entrambi privati, quindi non è possibile accedere direttamente. Abbiamo il nostro metodo setter, che ovviamente è pubblico, se fosse privato non avremmo nessun modo di accedere al valore, e il metodo print, che sostanzialmente stampa studente, a studente chiede di ottenere il valore toString e ha ottenuto il voto. Quindi il metodo print sostanzialmente accede al proprio attributo grade e poi delega all'oggetto studente di costruire una rappresentazione di se stesso in termini di una stringa. E come lo può fare? Nel caso più semplice, questa è la classe studente dove tutti gli attributi sono privati, il metodo toString è pubblico e che cosa fa il metodo toString? Stampa il nome, spazio, il cognome, spazio e la matricola. Quindi in questo modo viene costruito una stringa che è la concatenazione di questi elementi, che verrà poi utilizzata qui all'interno del metodo print per andare a stampare le informazioni relative al voto dello studente. Grazie a tutti. questa soluzione alternativa sostanzialmente è in grado di andare a rispettare meglio quello che è l'incapsulamento. Quindi andare a nascondere gli attributi e permettere l'accesso soltanto tramite dei metodi è la realizzazione del principio dell'incapsulamento. Questo vuol dire che gli utenti, gli utilizzatori di questi oggetti, di queste classi non devono conoscere i dettagli interni, quindi ad esempio non è necessario che main conosca il dettaglio interno del fatto che esiste un riferimento che si chiama student, non deve conoscere i nomi, cognome, eccetera, come nomi di attributi che stanno dentro la classe studente. E sostanzialmente quindi viene sfruttato quello che è il principio di delega. noi deleghiamo a un oggetto l'accesso e l'elaborazione dei propri attributi. Ad esempio, il metodo toString permette di andare a costruire una rappresentazione stringa dello studente senza conoscere i dettagli. Quindi io chiamo il metodo e poi il metodo andrà ad accedere a tutti gli attributi necessari per andare a costruire questa rappresentazione stringa. In generale poi è più comprensibile perché questi metodi a cui io delego delle operazioni anche eventualmente complicate, invece di accedere direttamente agli attributi, possono avere dei nomi significativi. Quindi setStudent è molto più chiaro rispetto a dire e.student uguale o println di e.student.last. Qui ci sono dei vantaggi che riguardano una maggior leggibilità e soprattutto la possibilità di andare a far evolvere facilmente le nostre classi senza andare a influenzare in alcun modo i loro utilizzatori. Quali sono i vantaggi in particolare di utilizzare dei metodi getter e setter? I metodi getter permettono di cambiare tranquillamente la rappresentazione interna, quindi io posso rappresentare nome, cognome, matricola separatamente piuttosto che metterli tutti in un'unica stringa già dall'inizio, senza fare alcuna modifica. Quindi passo da uno all'altro e gli utilizzatori che continueranno a passare attraverso il metodo getter non avranno, non osserveranno nessuna modifica. I metodi setter permettono invece di andare a fare dei controlli prima di andare a scrivere i valori. Se non uso il metodo setter ma do l'accessibilità agli attributi, questi attributi potenzialmente possono essere scritti in qualunque modo, con qualunque valore, anche con valori che non sono validi. Immaginate il metodo setcolor o paint che abbiamo visto dentro la classe car, potrei fare un controllo su quelli che sono i colori, i nomi di colori validi, invece di permettere di scrivere direttamente una qualunque stringa senza alcun controllo. Quindi a livello di classe noi abbiamo la possibilità di andare a regolare la visibilità e l'approccio standard è quello di andare a mettere privati tutti gli attributi e pubblici i metodi che permettono di accedere. Ovviamente ci sono piccole varianti a queste regole, però questa è la regola generale e poi le varianti si fanno di volta in volta normalmente avendo dei buoni motivi per farlo. Oltre alle classi in Java esiste un altro livello che è quello dei package che permette di andare a definire un livello di modularizzazione un po' più esteso e ovviamente anche a questo livello abbiamo i concetti di incapsulamento e di information hiding. Quindi la classe è un ottimo meccanismo di incapsulamento, ma spesso quando abbiamo a che fare con problemi complessi abbiamo necessità di avere molte classi. Per questo motivo il concetto di package è stato introdotto in Java. In C, non essendoci un concetto oltre quello del file, molto spesso quello che si fa è di andare a suddividere in cartelle o folder i vari file. Ecco, in Java questo meccanismo sostanzialmente è stato standardizzato a livello di classi e di sintassi specifica. Quindi un package in Java sostanzialmente è un insieme di classi che sono coese tra di loro e servono a uno scopo che è sostanzialmente unico. Normalmente a un package corrisponde una cartella su un file system in cui sono mezze tutte le classi che fanno parte del package. Quindi non c'è semplicemente una rappresentazione a livello di file system, ma c'è anche un corrispondente elemento sintattico a livello di linguaggio. Come dicevo, il package può anche giocare un ruolo di contesto e quindi andare a consentire o limitare la visibilità alle classi che stanno al suo interno. Quindi normalmente l'idea è che io posso tranquillamente accedere a tutte le classi che stanno nel mio package e poi ho dei limiti per accedere a classi che stanno in un altro package. Il fatto che un package rappresenti uno scope inoltre mi permette di andare a definire classi che hanno esattamente lo stesso nome in package diversi. Quindi come posso definire variabili che hanno lo stesso nome in funzioni diverse? Esattamente allo stesso modo qui ho classi hanno lo stesso nome purché stiano in package diversi. Qual è il nome di un package? Normalmente il package mi dà un nome specifico e la convenzione è molto spesso quella di utilizzare i nomi internet in senso inverso, per cui i package che dovrebbero essere definiti ad esempio nel contesto del Politecnico di Torino, ragionevolmente dovrebbero chiamarsi it.polito. eccetera eccetera eccetera. Le classi base del linguaggio Java ad esempio si trovano in un package che si chiama java.lang. Non segue questa convenzione perché sono gli elementi basi del linguaggio. Quindi la classe string, la classe system che abbiamo già visto in alcuni esempi si trovano dentro un package che si chiama java.lang. Abbiamo tanti altri esempi di classi che vengono suddivise all'interno di package e ogni package contiene un insieme di classi che sono coerenti tra di loro. Come facciamo a definire una classe, scusate un package, lo definiamo andando a mettere tutte le classi all'interno dello stesso cartella, cartella che deve avere lo stesso nome del package e soprattutto in cima a ogni classe andiamo a dichiarare il nome del package a cui la classe appartiene. Come faccio a utilizzare un package, una classe che sta in un package? Di solito devo andare a fare un'operazione di import. Nome del package.nome della classe. Questo importa una classe che sta in un altro package. Se io bisogna utilizzare tante classi che stanno nello stesso package quello che posso fare è utilizzare questa notazione abbreviata. Quindi ad esempio java.awwt.asterisco importa tutte le classi che stanno nel package java.awwt. Le due alternative sono uguali quindi io posso andare a elencare classe per classe tutte quelle che mi servono oppure importare tutte le classi che stanno in un package. Una volta fatto l'import il nome di quella classe è utilizzabile esattamente come se fosse stato definito all'interno del package corrente. Quindi prima devo fare l'import dopodiché ho a disposizione tutte queste classi. Avrete notato che nel caso della classe string che abbiamo usato in diversi esempi non ho fatto nessun import. Perché? Perché tutte le classi che stanno nel package java.lang che contiene come dicevo classi fondamentali del linguaggio java sono automaticamente importate quindi è come se ci fosse un import java.lang.asterisco all'inizio di ogni classe. E questo per semplificare la vita a chi deve scrivere programmi senza obbligare a importare tutte le volte le classi di base. Quindi per accedere a una classe che sta in un altro package io posso far riferimento a il suo nome completo. Il nome completo di una classe è il nome completo del package.il nome della classe. Quindi ad esempio per chiamare il metodo readint della classe console che si trova nel package mypackage posso utilizzare questa scrittura. Questa è un'alternativa a fare un'operazione di import. Quindi o uso questa annotazione estesa oppure faccio un import mypackage.console e quindi a questo punto posso omettere il nome completo. Questo nome completo è quello che si chiama il fully qualified name cioè il nome completo di una classe che include come dicevo il nome del package.il nome della classe. Questa annotazione di accesso esplicito a una classe dentro un package è utile se io mi trovo ad esempio a dover utilizzare due classi che hanno lo stesso nome e che si trovano in due package distinti. Non succede spesso ma ad esempio questo avviene per la classe date che si trova nel package java.sql e la classe date che invece si trova nel package di default. Per cui io posso utilizzare java.util.date di due direttamente andando a specificare il suo nome completo quindi java.util.il nome della classe. Ovviamente non posso fare due import perché a questo punto i due nomi andrebbero in conflitto. Quindi un date, quello che si trova in java.sql lo importo l'altro date lo uso facendo uso del suo nome completo il fully qualified name negli esempi base che abbiamo visto non abbiamo specificato alcun package e quello è il caso in cui java utilizza quel che si chiama il package default cioè un package che non ha nessun nome se avete notato anche in eclipse quando noi andiamo a creare una classe senza specificare il package viene messo default package nelle classi del package default possono ovviamente accedere a qualunque altra classe ma è impossibile che classi esterne al package default accedano alle classi che si trovano in questo package perché? perché non ha un nome e quindi non posso fare un import non posso fare un import default package perché il default package non è un nome vero e proprio è un'etichetta che noi abbiamo utilizzato per fare riferimento a questo package per questo motivo cioè il fatto che non è possibile accedere a queste classi normalmente l'uso del package default è qualcosa che è scoraggiato e viene dato un warning normalmente durante la creazione a questo punto come possiamo utilizzare i package per andare a definire un incapsulamento più di alto livello rispetto a quello che abbiamo nelle classi questo lo facciamo andando a utilizzare sostanzialmente i nomi che abbiamo in un altro contesto possiamo fare un import ma gli elementi che stanno all'esterno di una classe possono anche essere più o meno visibili se noi pensiamo a un package che contiene due classi le classi che stanno all'interno del package usano le regole di visibilità normali quindi una funzione che si trova nella classe A potrà accedere a un membro pubblico della classe B ma non potrà accedere a un membro pubblico della stessa classe inoltre ci sono delle regole ben precise che estendono queste che si applicano a classi che stanno in package diversi quindi io devo andare per ogni classe a definire qual è la sua visibilità ovvero come è visibile all'esterno del package in cui si trova, in cui è definita per cui ho sostanzialmente le classi pubbliche che quindi sono classi che sono visibili all'esterno del package quindi il concetto di public ha lo stesso significato del public applicato ai membri di una classe solo che si applica a una classe che sta dentro un package in maniera analoga posso avere un private class se non scrivo nulla quindi scrivo semplicemente una dichiarazione di classe senza public prima questa classe è sostanzialmente visibile soltanto alle altre classi che si trovano allo stesso package quindi quando manca il modificatore di visibilità per una classe questa si dice che ha una visibilità di package ora vediamo l'ultimo esempio private class A in Java questa scrittura è illegale perché? perché significa che sostanzialmente la classe è visibile soltanto a se stessa e quindi a questo punto nessun'altra classe potrebbe utilizzare i metodi o gli attributi di questa classe quindi è una classe sostanzialmente racchiusa in se stessa per cui non avrebbe senso andare a definire una classe di questo tipo come funziona l'esilabilità tra package diversi? allora se io vado a definire delle classi A e B che si trovano nel package P queste come vedete non hanno nessuno specificatore di visibilità quindi implicitamente si intende che queste hanno una visibilità di package cioè sono visibili soltanto all'interno del package P quindi una terza classe C che si trova nel package Q non potrà in alcun modo accedere a queste classi se invece vado a impostare la classe A come pubblica allora questa classe è visibile non soltanto nel package P ma anche all'esterno ovviamente perché la classe C che si trova nel package Q possa accedere alla classe A deve anche effettuare un import solo che l'import nel caso della classe B non funziona perché la classe B ha una visibilità di package quindi limitata soltanto al package P e quindi non potrà essere importata all'interno di una classe che sta nel package Q che è diverso quindi riepilogando le regole sono le seguenti quando abbiamo un membro privato questo comunque sia la visibilità della classe in cui si trova è visibile soltanto a metodi che stanno nella stessa classe quando abbiamo un membro che ha una visibilità di package cioè non metto alcuno specificatore né pubblico né privato questo è visibile da metodi che stanno nella stessa classe ovviamente ma anche metodi che stanno in classi in altre classi dello stesso package quindi se io non metto né pubblico né privato davanti a un membro questo è visibile dalle classi che stanno nello stesso package ma non da classi che stanno in altri package se io metto un membro pubblico però in una classe che ha una visibilità di package esattamente come nel caso precedente questo membro è visibile da metodi che stanno nella stessa classe metodi che stanno nello stesso package ma non metodi che stanno in altri package infine andando a vedere il caso di classi pubbliche che hanno membri pubblici questi sono ovviamente visibili all'interno della stessa classe visibili all'interno di classi dello stesso package e ovviamente anche visibili a classi che stanno in altri package quindi questo è sostanzialmente quanto è definito in java riguardo alle regole di accesso ripeto abbiamo due livelli di incapsulamento il primo livello quello ovvio è quello delle classi in cui posso applicare i due modificatori pubblico e privato quindi mi dicono se posso vedere i membri soltanto nella stessa classe o all'esterno e il secondo livello è quello di package il package ovviamente introduce un livello ulteriore che è la visibilità di package cioè una visibilità che è limitata ad altre classi che stanno nello stesso package la visibilità di package è quella che viene attivata quando non si inserisce né la parola chiave public né la parola chiave private in questo caso la visibilità è limitata al package in cui la classe è definita per cui a livello di classi la raccomandazione e l'approccio solito è quello di andare a definire tutti gli attributi privati e mettere pubblici i metodi che possono essere utilizzati dall'esterno per andare a accedere in maniera immediata agli attributi per quanto riguarda i package normalmente noi andremo a rendere pubbliche le classi che effettivamente hanno un'utilità generale ed eventualmente a rendere con visibilità di package le classi che hanno un'utilità puramente interna usate esclusivamente dalle classi che fanno parte di quel package con questo abbiamo chiuso sostanzialmente la panoramica sugli aspetti di visibilità all'interno di Java e abbiamo visto come gli strumenti possono essere utilizzati per andare a limitare la visibilità e quindi sostanzialmente a dare una realizzazione pratica a quello che è il principio di incapsulamento Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!